Conoscendo i temi della sicurezza e della sostenibilità alimentare, possiamo giudicare se le nostre scelte alimentari incidono sulla nostra salute e su quella dell'ambiente. Il cibo costa tanto all'ambiente in termini di acqua, suolo, energia e lavoro dell'uomo. E allora? Il cibo diventa dono nell'emporio solidale di Taranto. Il tema del contrasto al caporalato è centrale nel nostro progetto. Il cibo diventa dono nell'ambiente. Avete voglia di ascoltare un po' di cast non di musica non di calcio e meno male bensì della quarta ma prima presentiamoci siamo la classe super quarta sci dell'istituto comprensivo Ernesto Solvè Dante Alighieri di Rosignano Solvè il nostro super mega iper meraviglioso podcast parlerà di cittadinanza attiva rimanete collegati ovunque voi siate musica maestro Grazie a tutti